Eh? Sì, questo qua è la mappa dove... Ma noi stiamo usando per riscaldarci, come giochiamo? C'è una nuova modalità che è stupenda Eh, ci sta una nuova modalità che è tipo... è tipo gunfight, no? Però tu devi... ogni volta che ammazzano qualcuno devi raccogliere i tags E poi le tags devi portare e depositare nella banca No, è una figata Ma muori male, ma tu il tuo fidanzato è merda, porco Dio C'è, porco Dio, quando stanno così in due, porca madonna Puttana, tu e tua sorella E ci sta il... No, 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 ci sta l'altro, c'è il parcheggio con l'inferiore Chiude, quello sotto No, mi hanno sparato da quattro angoli diversi, porco Dio Questo non muore, vabbè, quello si è preso 8 colpi in testa e poi è morto, hai visto? 55 kills Sì, credo che il più che ho avuto su questa mappa è tipo 65 Oddio, ci si, metti la A Non ti dico un cazzo O se no Eh, spawns nozzaro Questo è spawnato qua, vabbè Sì, no, sono proprio a merda Porco Dio No, orco Dio, ma questo sta fronato là Questo è... Ma metto il culo, vai Quanti bullets hai preso, quello per i morti Oh my god, keep picking up other people's weapons Oh, I always do that instead of grenading Ma mori male, oh Eh? No No I, 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 I don't... No, you don't pick up grenades or something You pick up ammo Non penso Eh, vabbè, porco Dio, sei dentro No, pensavo fosse morto il primo Ma dov'è? Ha preso Io prendo la montagna E qui perché mi risposto Ma che cazzo sono? Eh, esci Dai, su, non fai la puttata Ma in questo punto qua non l'abbiamo preso Mamma mia Ti ho fatto un buco in faccia Non è che cazzo qua Tu hai 72 72? Ah Ok, vabbè I'm not even close, I'm 38 Tu? Oh, vabbè Oh wait, c'è un c'è? Oh, I gots it. Tess, can you help me take a point? 81 kills! Stop running around and going for kills! Just fucking take a point! Wait, do you have a Wilson again? No. Oh, we have a Wilson. Wilson is OP on this map, bro. Yeah, I know. That's how I got a lot of my kills. Wait, we lost. I know. The fuck, we lost. But how do we... Because that's because you never went for points. What is this gun? G36. Wait, that looks so free. We actually broke it, guys. 80 kills! Now you're... Dude, you're...